Allora, sedile smontato, quello anteriore è lato passeggero, perfetto, tolte le plastiche con molta attenzione, svitate le plastiche laterali con molta attenzione, smontata la maniglietta con molta attenzione, c'è un rivetto, scusate il rumore di fondo ma i miei vicini sono molto caotici, anche se c'è l'anti-assemblamento, però va bene, plastica svitata, ok, tutto messo qua con molta moderazione, ma deve essere la parte più bella e speriamo più facile, più difficile, vediamo tutto il resto, intanto prendiamo un po' il tavolo da lavoro, compressore, iniziamo di nuovo a lavorare, incliniamolo, oh! proviamo a sganciare gli spinottini della plastica, è già uno sganciato, l'altro sganciato, perfetto! perfetto! ok! molto attenzione a sganciare le pastichine, se ve lo devo fare! parola danziche! buongiorno! parola danziche! parola danziche! Attenzione che sono molto fragili. Attenzione sempre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.